Chalix Decor è uno stucco minerale a base di grassello di calce indicato per riprodurre effetti altamente decorativi. Lo stucco lucido è la più classica delle finiture realizzabili con Chalix Decor. Crea l'effetto della calce spatolata. Per ottenere questo effetto sono necessari due spatole trapezoidali ad angoli arrotondati in acciaio inox, una spatola triangolare in acciaio inox, un pennello a setole morbide e una telina in politene. Prodotti Fondo Chalix Decor Ancorante Finitura Chalix Decor Finitura Prima di applicare i prodotti verificare che la superficie sia pulita, asciutta, priva di polvere o crepe. I supporti nuovi contenenti gesso vanno preventivamente isolati con un idoneo prodotto di fondo. Diluire Chalix Decor Ancorante al 30-40% in volume con acqua e mescolare bene. Applicare questo fondo col pennello a setole morbide operando a pennellate incrociate. Su supporti ruvidi o irregolari si consiglia di applicare invece come fondo una o due mani a spatola di Chalix Decor Fondo. Applicare Chalix Decor Finitura nel colore desiderato, utilizzando la spatola trapezoidale ad angoli arrotondati in acciaio inox fino a ricoprire interamente la superficie. Importante! Per eliminare problemi di giunte, applicare il prodotto evitando sovrapposizioni dall'andamento lineare. Ripetere seguendo le stesse modalità per ottenere un aspetto uniforme. Applicare una seconda mano di Chalix Decor Finitura dello stesso colore e seguendo le stesse modalità della prima, operando a colpi di spatola incrociati. Distribuire il prodotto fresco verso la superficie asciutta. Applicare una terza mano di Chalix Decor Finitura dello stesso colore e seguendo le stesse modalità della precedente. Quando il prodotto è ancora in fase di essicazione, lucidare e compattare la superficie con la spatola trapezoidale in acciaio inox con angoli arrotondati di dimensioni più ridotte. Per uniformare la brillantezza superficiale, ripassare subito la finitura con una telina in politene. Importante! Chalix Decor Finitura è a base di grassello di calce che per sua natura ha un effetto sbiancante. Di conseguenza, le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente dal riferimento di cartella, in particolar modo per quanto riguarda i colori più saturi e scuri. Chalix Decor nell'effetto stucco lucido permette di ottenere l'autentica decorazione a stucco che conferisce a ogni ambiente interno un'atmosfera unica e raffinata. Per concludere, una sintesi delle fasi principali. Attrezzatura. Due spatole trapezoidali ad angoli arrotondati in acciaio inox. Una di dimensioni più grandi per applicare e una di dimensioni più ridotte per lucidare. Una spatola triangolare in acciaio inox. Un pennello a setole morbide. Una telina in politele. Prodotti Fondo Chalix Decor Ancorante Finitura Chalix Decor Finitura Ciclo di applicazione Una mano di Chalix Decor Ancorante Essicazione 24 ore Una mano di Chalix Decor Finitura Essicazione 4 ore Due mani di Chalix Decor Finitura attendendo almeno 30 minuti tra l'una e l'altra Lucidatura prima con spatola trapezoidale ad angoli arrotondati in acciaio inox di dimensioni più ridotte e successivamente con telina in politene. Finitura Chalix Decor Finitura